I parlamentari grillini fanno le loro contro consultazioni in piazza Montecitorio. E mentre l'ex comico torna all'attacco, Vendola conferma staremo all'opposizione. Maria Suave. Quelle del Quirinale le bollano come consultazioni farsa, per questo il Movimento 5 Stelle fa le sue contro consultazioni in piazza Montecitorio con i cittadini per dire no ai giochi già fatti. Perché a queste buffonate, a questi teatrini non partecipiamo. Le consultazioni da Costituzione, come sapete, servono per dare l'opportunità al Presidente della Repubblica di capire a chi affidare al governo, se c'è una determinata maggioranza. Questo dice la Costituzione. Se i giochi vengono già fatti due giorni prima, in stanze al di fuori delle stanze istituzionali, al Nazareno, il Presidente della Repubblica si permette di dire decide il PD, evidentemente è una farsa. Palla Taverna in calza, la piazza che risponde con fischi a Renzi, Boldrini e Alcolle, promosso dunque lo strappo dei 5 Stelle, deciso in un'assemblea tesa e non senza mal di pancia. E' il primo no a consultazioni di un grande gruppo parlamentare. E' la linea di Grillo che torna ad attaccare il Quirinale e punta l'indice contro Berlusconi che parteciperà alle consultazioni Alcolle. Grillo annuncia che martedì sarà al Festival di Sanremo per dire la sua dentro e fuori l'Ariston. E' la linea di Grillo che torna ad attaccare il Quirinale e punta l'indice contro Berlusconi. E' la linea di Grillo.